Allora sconfitta di misura per la coccinella ma che veramente dire che ha gettato il cuore oltre l'ostacolo è troppo riduttivo. Sì, abbiamo dato tutto il possibile, tutto quello che avevamo ma il grado eravamo ridotte al minimo perché abbiamo avuto infortuni pesanti e quindi stiamo cercando di andare avanti nel meglio possibile. Continuiamo a allenarci e oggi speravamo in qualcosina in più. Ci poteva essere l'occasione, non si è trattato tanto di riflettere quanto magari avere un po' più di lucidità che però è mancata perché veramente spendere tutte le forze non era facile, soprattutto l'assalto finale. Sì è vero, abbiamo dato il massimo, siamo sfinite ma siamo contenti e soddisfatti e continueremo così senza renderci. Zampetti, gol, soprattutto un gol pesante perché la Villa Aurelia ha cercato in tutte le maniere, soprattutto nel primo tempo, un po' nel secondo tempo avete un po' batato anche a ordinare il risultato. Sì sì sì, è stato difficoltoso all'inizio perché loro comunque sono una squadra organizzata, ci avevamo avuto un po' di difficoltà inizialmente però poi dopo diciamo... C'era un po' il ricordo della sconfitta dell'andata? Ma la sconfitta dell'andata sì perché è stata mal gestita sicuramente da parte nostra, poi ripeto loro sono una squadra comunque organizzata, non a caso sono diciamo alle prime parti della classifica. Quindi non l'abbiamo mai sottovalutata e poi diciamo che con la giusta testa ci siamo ripresi abbastanza, è andata bene. Può darvi lo slancio però ancora più in alto questo risultato, questa vittoria? Beh ogni vittoria ci dà diciamo uno slancio, una sicurezza maggiore quindi noi cerchiamo comunque fino a fine campionato di dare il massimo visto che comunque durante la settimana facciamo abbastanza, c'è parecchi sacrifici quindi cerchiamo, cerchiamo di arrivare il sabato preparate. Poi ormai siamo quasi in dirittura di arrivo di questo campionato, manca davvero poco? Manca poco, manca poco, speriamo bene, ovviamente noi ce la metteremo tutta poi ci mancherebbe chi vinca il migliore. Grazie a tutti.